ragazze guardate che negozio meraviglioso che c'è qua si chiama di e si chiama maison provence guardate mamma mia che meraviglia quella vetrinetta proprio provenzale guardate che belle ghirlande ci sono tutti gli schiaccianoci allora ragazze vi devo dire che io sono stata a questo evento di palco francisco mi sono divertita un sacco è stato un evento bellissimo mi sono comprata un poncio molto bello un colore particolare e ora sto andando a mangiarmi una pizza ragazze guardate che piatti meravigliosi piatti da torta da panettone guardate a qui c'è il tessile piumoni played guardate che belli guardate che belli mamma mia che meraviglia guardate questa cassa panca messa ai piedi del letto stupenda e poi quella parete a righe io avevo nell'altra casa avevo questa parete così precisa bellissima questa parete così bellissima ah qua c'è un negozio di scarpe invece nero giardini comunque ragazze vi devo dire quindi che mi sono divertita tantissimo chef ti sei divertito a quest'evento vabbè dai non ti puoi lamentare ti ho fatto tutti i video con le ragazze con le modelle con le indossatrici non ti puoi lamentare proprio sono stati quei due minuti soltanto esatto e poi basta il vuoto e ci aveva preso pure gusto lo chef a farsi le foto e i video con le ragazze ci aveva preso proprio gusto allora ragazzi stiamo andando in pizzeria ciao